Amici di Sport Casertan 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 della squadra, gli ultimi 15 minuti la squadra che doveva fare quell'assalto alla squadra avversaria si è seduta, non ha avuto la forza di chiudere il campagna nella propria area, nonostante questo è venuta una palla a gollo con un'esposito grandissima che purtroppo il ragazzo ha ciccato. Adesso bisogna vedere la domenica prossima, giovedì si aprirà il mercato, Burgos è arrivato, arriverà sicuro al 100% Raffaele Stigliano in prestito dall'Avellino, stanno adattando una grossa punta e arriverà forse un difensore in centrocampista. Il difensore dipende se uno dei difensori dell'attualmente di Rosa della Casettana chiederà di andare via perché si può essere anche questo rischio che qualche calciatore che non vede che forse era molto legato a Fevola, si trovava bene con Fevola, non si troverà bene con questo allenatore e lo richiederà di andare via. Se non nessuno chiederà di andare via, mercoledì sera, faranno una riunione il nuovo allenatore e la dirigenza per decidere su chi puntare, su chi tagliare. Credo che giovedì nei servizi di Armando nella partitella che giocherà contro i ragazzi alla Beretta della Casettana vedremo già qualche nuovo elemento che, anche se non è pronto per giocare per domenica, verrà già ad allenarsi con la squadra. L'altra cosa che è interessante è che il 15 di dicembre la Casettana giocherà una partita amichevole con la squadra del Vaticano, sperando che la benedizione del Santo Padre con questa squadra del Vaticano e i nuovi acquisti possono far sì che la Casettana si possa incominciare a mettere sulla strada delle vittorie e ottenere una serie di filotto di vittorie.